sono gimena blanco ho 25 anni e gioco nella lazio femminile quanto ti pesa a giocare e vivere in un altro paese la mia situazione a me tanto mi manca tanto la mia terra quindi un po difficile qual è il rapporto con il gruppo in cui giochi bello non aspettavo tanto così con i ragazzi veramente tutto molto tranquillo come vivi il rapporto con il tuo allenatore bene tranquillo lui molto professionista ci lo fa capire a tutte quante quindi molto bene quale pensi sia il tuo miglior pregio penso la voglia diciamo la voglia di comunque già che sto lontano da casa di fare bene e il tuo peggior difetto che a volte mi incazzo un po troppo quale sono i tuoi obiettivi sportivi diciamo qua in italia certamente cercare di vincere coppa italia scudetto più possibile quanto di pesa essere considerata una numero uno quello che che pensa la gente quello che che pensa non c'è gente che pensa pensa che di sì c'è gente di non c'è non faccio caso non mi pesa dopo una vittoria o una sconfitta come reagisce è la vittoria bene tranquilla certo sconfitta un po mi mette mi mette nervosa diciamo cosa si prova ad essere convocata in nazionale vabbè sempre una cosa bella diciamo fatto nazionale sia 11 che calcetto quindi credo che mi fa molto piacere se vedono comunque caratteristiche che posso giocare in diversi tipi di campi diciamo grazie